È reato? Abbiamo fatto un dramma dell'esa maestà a qualcuno e gli abbiamo sottratto il gioiellino? Siccome questi 70.000 viene fuori sempre dalle tasse e dalle tasche di cui sopra No? Allora io dico, è una cosa fatta male noi proponiamo di fare anche il cinema a teatro Primo perché magari per i bambini c'è un luogo dove andarlo a vedere senza che i genitori li portano a Senigai o Nancuna per le pensioni che non hanno voglia di arrivare a Senigai o Nancuna magari c'è l'opportunità di vedere un cinema qui a Montemarino